Buongiorno a tutti. Io credo che sia molto importante registrare oggi l'idea che il piano della mobilità sia parte integrante di un'idea di disegno della città. La scala di dettaglio perché dove arriva una piccola stazione o una fermata di un tram si crea necessariamente un luogo che diventa parte di uno spazio pubblico importante, di un modo diverso di fruire la città dei cittadini. Alla scala generale perché è evidente che oggi spostarsi nel corpo vivo della città è fondamentale perché non esiste più nelle città mondiali, non solo a Roma, quel rapporto tradizionale tra abitare e lavorare che ha caratterizzato la città moderna. E in questo volevo dire che lo strumento da partecipazione mi sembra uno strumento molto importante soprattutto perché ci permetterà di raccontare in qualche modo la città secondo schemi e modalità che sfuggono a un racconto consolidato che di solito viene fatto della città. Cominciare a raccogliere dai cittadini racconti, dati, quello che succede in molte città europee per esempio con gli open data, una descrizione di una città che noi, i cui confini, i cui modi di essere abitata, sfuggono a quello che era una narrazione della modernità tipica, del fatto che io mi sveglio la mattina, vado a lavorare e torno a casa a una certa ora. E questo permette di raccontare diversamente lo spazio pubblico, di raccontare diversamente i modi di abitare e quindi anche di pianificare la città nel futuro. Troppo spesso la separazione tra le competenze di assessorati ha portato anche a volte a dei momenti in cui i piani dell'una e dell'altra parte si distaccano per pochi metri. Una stazione di tram viene messa al di là di un muro che separa una piazza, uno spazio pubblico appunto da un'infrastruttura importante. Quindi stiamo procedendo già da tempo con l'Agenzia per la mobilità e le risorse per Roma, abbiamo dei tavoli proprio per verificare nel dettaglio l'armonizzazione dei programmi esistenti e l'inserimento di nuove programmazioni. Credo che questo sia un dato importante che vede collaborare la città e i cittadini in una maniera nuova in cui si genera anche una responsabilità, un senso di responsabilità nei cittadini che rispondendo ci aiutano a capire la città. Questo è assolutamente importantissimo. Ringrazio per questo tutti coloro che ci stanno lavorando. Oggi presentiamo il portale ma il lavoro sta già andando avanti da tempo e mi sembra una tappa importante per la visione strategica di questa città da qui, anche a 30 anni. Grazie.